eh oh che fai? non mi ha toccato eh oh 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 vischero oh proviamo a sentir loro se ce l'hanno anche un cacciavite a stella vabbè in uguale magari ce lo prestano io lo so proviamo a sentire ragazzi scusate non c'avevi mio un cacciavite a stella no ragazzi Valentino gli ha incazzato adesso non mi presta nulla l'ha setta gli attrezzi non la dà nessuno perché l'altra volta ho se cacciavite no ma poi mi si riporta no no gli ha tutto sberdò le maionese io non so chi gli ha mangiato il panino non so un po' nulla ma poi ho si si è mai avviato a tornare indietro il pappagallo c'è sparito un tanto un secchio di posto ma no mi si presta nulla ma allora vai via 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 ma vai via 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 allora si non so lasciate fare una fredda che gli giusmano inscrivati io gli ho prestato questo ha preso, gli è in giro la macchina e gli è rimasto spento ma poi voglio dire lì gli ci sei presta male perché gli hanno portato i cacciavite e gli smerdavano la maniera oi a me il panino lo hai��ato mi fa cazzare perchè loro mangiano la mortadella e la tortellina ma tu vado a mangiare la tortellina gli ho detto io gli ha scivolao, gli ha scivolao gli ha buttato, gli ha scivolao gli ha scivolao, gli ha scivolao ma non è colpao, gli gli sono andato addosso perché si è assicurato, gli ho detto io io sono toccao, capito, sono toccao la gomma, è la gomma ci avevo le ammazzine delle gomme però sono scivolato perchè lui dopo ci aveva le ammazzine delle gomme e avevo la chiave del 9 che non me l'ha portata la chiave del 9, il la chiave del 9